Allora, ciao a tutti, benvenuti in questo video. Chi ci abbiamo qua? Me. Sapete chi è? Me. Non c'è violenza sui bambini in questo video, mi dissocio. Tu in questa foto cosa vedi, un uomo o un cane? Un uomo? Sì. Vedi un uomo te? Tu vedi un uomo? Un cane? Adesso che l'hai letto, ma tu all'inizio cosa hai visto? Un uomo? Un uomo e un pallino rosso. Dove è un pallino rosso? Ma non è un pallino rosso, è l'into. Lo picchiere solo per questo. Io invece ci vedo all'inizio, la prima volta che lo faccio ho visto un uomo, vedete che lì c'è la faccia del cane, che alcuni vedono un cane. La faccia del cane a me sembrava il dietro di un giubbino. Mi sembrava una persona con pantaloni neri, il giubbino quello peloso nero con un cappussio, con dietro una stuccia, uno zaino sporco di neve. Poi dopo, il giorno dopo, l'ho riguardato e c'ho visto un cane, col muso sporco di neve qua e la testolina sporca di neve. Un'altra cosa? Cosa vedi? È il lupoluzio! Vedo la neve. Non è morto nessun Christopher in questi video. Non è morto nessuno. Questo è tutto, ciao. Ha laggato tutto. È il turno di Ryan. Ryan, tu in questa foto cosa vedi? Un uomo o un cane? Un cane e un uomo. Si, vede un cane e un uomo. Un cane non può camminare così. Vuoi sapere cosa è veramente? Sì. È un licandro. Comunque è un cane. Spero che sia partito adesso. Allora Ryan, tu qui cosa vedi? Un cane o un uomo? Un licandro, forse. L'ho fatto presto, detto che un licandro, quindi guardiamolo dagli occhi. Ma sei te? La tua casa è spostata. Che bello, risoluzione zero FPS. Uff. Uff. Il terrorismo è arrivato in Italia. Hai visto? T'ammasto. Cosa? Non si è visto niente. Si è visto solo che cade il telefono. Quindi ciao. Uff. 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 Con questo bellissimo green screen chiedo a tutti e voi, 392, di scrivere in commento cosa vedete qui. Se avete un cane o un uomo. Io a prima vista ho visto un uomo, ma adesso ci vedo un cane. Scrivete in commento cosa vedete voi. Uff. 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 Grazie a tutti.